Allora loro sono Howard Wolowitz, Sheldon Cooper, raggi contrapali, direttamente quasi inutile dirlo, da Big Bang Theory, Ermano, Stefano e Andrea! Howard, apri la porta, sono occupata! Sono occupato anch'io, vado a aprire tu! Non posso, sono sulla tazza del cesto! Non ti pensi di sottolinearlo, non potevi dire che sono occupata? Ma non ho detto che ero occupata, ma non si sta mai bene niente! Vero che sia una banda di quartiere che qualcuno mi spara in testa! È una banda di quartiere, non gli dire che sono sulla tazza del cesto! Non c'è nessuno! Anche le allucinazioni non la soffrono! Terma barba di Mosè! Ma quanto liquido esce dal mio fondo schiena! Anche le allucinazioni non la soffrono! Grazie per la visione!